La causa scatenante sono state le tante segnalazioni sul mancato ritiro dei rifiuti ricevute da cittadini positivi al covid che si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni. Per questo il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha deciso di scrivere ad Alia segnalando al gestore il problema prima che questi rifiuti speciali finiscano insieme agli altri ed evidenziando il fatto che persone contagiate che hanno già una situazione sanitaria compromessa non possono convivere anche con i cattivi odori generati dai rifiuti non ritirati. Ieri ho scritto una lettera a Alia perché purtroppo il servizio di ritiro dei rifiuti ai positivi non sta funzionando. La regola dice che Alia una volta che l'Aso ha comunicato al comune quali sono le persone positive a casa il comune manda una nota dove Alia deve intervenire con i contenitori apposta e togliere i rifiuti che in questo caso sono speciali perché sono quelli dei positivi. A oggi purtroppo Alia è il ritardo sul ritiro e questo crea dei problemi alle famiglie che a volte sono intere famiglie che sono positive perché i rifiuti giacciono fuori dalla porta, sono pericolosi e c'è il rischio che qualcuno le poi le butti nei cassonenti normali. Quindi io ho scritto in maniera dura e decisa dicendo a Alia visto che c'è l'appalto per tutto l'alto di intervenire, di organizzarsi e di rispettare voglio dire i tempi di ritiro perché già le famiglie sono in difficoltà, già sono in casa positivi, a volte sono dentro dei condomini e giusto e c'è l'obbligo di ritirare i rifiuti speciali e portarli via. Quindi spero che questo serva per accelerare e riportare alla normalità questo importantissimo servizio.